Ben ritrovati ragazzi per la seconda parte dell'apertura del box di ex leggende nascoste Nella prima parte abbiamo trovato ben tre ex, quindi abbiamo fatto il pieno di ex nella prima parte Vediamo nella seconda cosa ci riserva Questi Pikachu tra un po' Ok Cicorita, Sidot, Tentacul, Rayorn, Plazol, Medita e Tolografico, Metan, Dodrio e Tomba Antica Allora Olografica, Relicant, Tentacruel e Metang Tentacul Vediamo quali pacchetti Ok Cinciao, Schiappet, Baltoi, Staryu, Meditae, Clamper Reverse, Olografico, Metan, Dodrio e Glelli Proseguiamo Alla prima parte, Ricca di ex, la seconda Si stanno facendo desiderare Vediamo un po' Se trovo qualcos'altro Cicorita, Zubat, Weismu, Wulpix, Baltoi, Pinzir Olografico, Love Disk Questo è Perilary Fenix, Metang e Mailotic Colo Spettacolo di carta Bellissima Io adoro, mi piace Mailotic come Pokémon Decisamente Questo non mi piace come pacchetto Troppo rovinato Meditae, Plasol, Sfil, Snorant, Iglipaf, Relicant Olografico, Castform Pioggia, Isola Caverna e Antico Macchinario Tecnico Ghiaccio Questo è ghiaccio Prima era acciaio Chinchow Jigglypuff Rayorn Sfil Sidot Golbat Olografico Castform Pioggia Silio E Nuzleaf Vediamo un po' di pacchetti fuori Perché Ok Ogni volta Se scava nel box Non me va Shappet Baltoi Wisemur Zubat Chinchow Dark Celebi No, guardate qui che carta Bellissimo Shai Mechu Spinda E Beldum Dark Celebi ragazzi E' una figata Pazzesca Ve lo dico E ve lo confermo Chinchow Cicorita Fivas Oddish Totodail Orografico Sileo Beldum Explodolo E Beldum Anche questa non è male Stariu Mainun Clamper Sidot Saskit Gloom Cemeciu Corsola Ed Erbavita Adesso volano i Pikachu Sicuro Andiamo ancora avanti Per l'avventura Oddish Fibas Snorant Baltoi Totodail Crobat Orografico Corebis Corsola Ed Odrio Ragazzi Mi lasciano solo con tre X Sa proprio di si Wisewood Tentacle Wolfix Cicorita Jigglypuff 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 Orografico A me piace quando trovo le carte così Castform Sole Golbat Golbat E Nudleaf Volthorbe Saskit Baltoi Fibas Xinchao Antico macchinario tecnico Reverse Masquerain Lavdisc E Metang Bottiamo perché non mi piace Machop Dodo Clamper Sidot Zubat Shiftry Orografico Antico macchinario tecnico Roccia Tempesta magnetica E Cleidololo Bella anche questa Olo Questo è l'ultimo pacchetto di questa seconda parte Doduo Gulpin Oddish Machop Rovine deserti Chiarografiche Loaded Tempesta magnetica E Regirock EX Più Meditate Guardate questo EX come Spettacolare Bellissima E Meditate Già ve l'ho fatto vedere Vabbè Apriamo anche questo Visto che abbiamo Il tempo per aprire un altro Poi l'ultima parte Ci saranno pochissimi pacchetti Beldum Voltorb Sindaquil Saskit Casformneve Corsola Machoki Warrain Olo E Zubat Perfetto ragazzi La seconda parte Finisce qui Vi aspetto Per l'ultima parte Cioè la terza Ciao ciao